Quadrato C'è spazio per andare E ne prende! E adesso c'è veramente un margine pesante di battaglia Ci sono evidentemente delle responsabilità da parte del portiere in questa partita certamente non brillante Quarto gol della gara che fissa sul 3 a 1 il punteggio Felipe Andasus Quadrato Punta l'area È tutto solo Attenzione!